Il pianto e l'emozione della madre di Antonino Candido, uno dei tre vigili del fuoco morto nello scoppio del cascinale a Quarniento, nell'Alessandrino, nella notte tra il 4 e il 5 novembre 2019, alla fine della lettura della sentenza della Corte d'Assise dell'Alessandria, ieri. Trent'anni di carcere per ciascuno dei coniugi vincenti, come aveva chiesto il procuratore Enrico Cieri. Gianni Vincenti e la moglie Antonella Patrucco sono stati condannati per omicidio plurimo aggravato per la morte di Matteo Castaldo, 46 anni, Marco Tricchis, 38, e Antonio Candido, di 32. I tre pompieri, insieme ad altri colleghi, erano intervenuti in quella cascina subito dopo la prima esplosione avvenuta verso mezzanotte. Vincenti era stato subito informato, ma non li aveva avvertiti del secondo innesco su altre cinque bombole di gas piazzate nella casa padronale. La seconda esplosione l'ha fatta crollare quando dentro c'erano i vigili del fuoco entrati per controllare e bonificare le altre zone della cascina. Vincenti, nelle primissime fasi dell'indagine, aveva riferito di vendetta nei suoi confronti, poi la prova schiacciante trovata nella sua abitazione, un foglietto illustrativo di un timer, infine la confessione. Aveva debiti l'imprenditore che gestiva un sito di viaggi, sperava di ripienarli incassando il premio dell'assicurazione. La moglie, Antonella Patrucco, sapeva di quel piano per far saltare in aria la cascina. L'ha intestata, non era in aula la lettura della sentenza. Il suo legale ha detto che è impensabile accomunare la sua posizione con quella del marito. Il sottosegretario all'interno, Carlo Sibiglia, ha commentato così la sentenza. Per le tre famiglie e per la più grande famiglia dei vigili del fuoco è un giorno di rinnovato dolore, lenito dalla certezza che i responsabili di quella tremenda strage saranno assicurate alla giustizia.